A assistito dall'alto, da solo, sui gradoni della curva su, dalla partitella della propria squadra contro la Juniores di Andrea Sussi. Mister Chiappini ha voluto studiare i movimenti dei suoi ragazzi cercando di capire su quali altri aspetti dovrà lavorare oltre a quelli mentali, come ha detto più volte in conferenza stampa. La formazione, vista l'opera nel primo tempo, dovrebbe portare alla conferma contro la Voluntas Spoleto di Scarpelli tra i pali, di Erne Zaccanti centrali, con Bricca Play basso a centrocampo, Rubechini mezza alla sinistra, Quadrini trequartista e Diemena attacco. Non mancano le novità, Rascaroli infatti si è posizionato sull'out di destra vestendo i panni del terzino, sulla sinistra Tonetto ha stazionato al posto di Mencarelli, mentre Di Santo è scalato a centrocampo per fare posto ad Essussi. L'attaccante marocchino ritroverebbe dopo la panchina di domenica scorsa con la Ponte Vecchio una maglia da titolare e forse per la prima volta di stagione potrebbe non fare reparto da solo.